Capitolo 1. La pergamena Ho visto un rotolo, nella mano destra di quello che era seduto sul trono. C'erano scritte all'interno e all'esterno della pergamena ed era sigillata con sette sigilli. Apocalisse capitolo 5, verso 1. La pergamena è scritta all'interno e all'esterno e sigillata con sette sigilli. I rotoli ebraici per la redenzione di schiavi e proprietà erano comuni. Ai tempi di Geremia usavano due pergamene. Uno è stato scritto all'interno e sigillato. L'altro non era sigillato. Ho preso le prove dell'acquisto, sia ciò che era sigillato secondo la legge e le usanze, sia quello che era aperto. Geremia capitolo 32, verso 11. Ai tempi di Giovanni usavano una sola pergamena. Ciò che era stato scritto sulla pergamena aperta ai tempi di Geremia era scritto all'esterno della pergamena sigillata ai tempi di Giovanni. Viene effettuata una ricerca per qualcuno che soddisfi i requisiti legali per aprire lo scorrimento. Una pergamena della redenzione poteva essere aperta solo da un parente redentore e poteva aprirla solo se fosse stato in grado di pagare il prezzo richiesto il riscatto. Chi è degno di rompere i sigilli su questo rotolo e aprirlo? Apocalisse capitolo 5, verso 2. Gesù appare come un agnello ucciso e si scopre che ha soddisfatto i requisiti legali per aprire la pergamena perché era stato ucciso e aveva pagato il prezzo del riscatto con il suo sangue. Questa è una prova in più che la pergamena è una pergamena della redenzione ed è la prova che è la pergamena per la redenzione dell'uomo e della creazione. Guarda, il leone della tribù di Giuda, l'erede al trono di David, ha vinto la vittoria. È degno di aprire la pergamena e i suoi sette sigilli. Apocalisse capitolo 5, verso 5. Sei degno di prendere la pergamena, spezzarne i sigilli e aprirla. Perché sei stato massacrato e il tuo sangue ha riscattato persone per Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Apocalisse capitolo 5, verso 9. Entrò nel luogo Santissimo una volta per tutte con il suo stesso sangue, assicurando così la redenzione eterna. Ebrei capitolo 9, verso 12.